roba grossa il bifo è oggi allora cosa facciamo proviamo il wing soup con big cricket con il grillo grosso non è perfetto allora senza nessun tipo di sforzo è stato piacevole abbiamo montato il tutto c'è un po di mucillaggine pochettravia viene la vela più in parete è più verso il basso il busto la tavola stai andando al contrario vai cucchiaia cucchiaia così allora sai cos'è fatto male allora fammela provare un attimo dai che cerco di capire va bene provo a fare una vira ti tira il culo 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 i in Grazie a tutti.